Ciao a tutti, io sono Diletta e vi sto parlando dalla libreria Giunti della Stazione di Bologna. Vi voglio presentare tre romanzi perfetti e indicati per l'autunno. Il primo è un classico non molto conosciuto, Le luci di settembre, di Zafon. È un romanzo di indagine dove appunto i protagonisti vedono queste misteriose luci nella nebbia e si chiedono il perché questo accada. Ed è un mistero formato narrativa veramente molto intrigante con la magistrale scrittura di un autore prematuramente scomparso. Il secondo libro che vi voglio presentare è un fantasy, un grande classico, La bussola d'oro di Philip Pullman. Racconta di un universo in cui la coscienza è fuori dal corpo, formato animale. La protagonista è una ragazzina, Lira, e anche questo è un romanzo pieno di intrighi, di misteri, di grande avventure, proprio perché in questo caso coscienza e uomo vivono e lavorano insieme e si fanno compagnia. Ultimo romanzo che vi presento è un'uscita Giunti molto recente di un'autrice che già in molti conoscono e questo è un romanzo anch'esso pieno di mistero, adatto comunque per le giornate autunnali in cui ci si sta al caldino con la copertina e il tè e racconta della protagonista che appunto intraprende un viaggio alla ricerca della sorella scomparsa.